Perché Luke è Luke, 4317 Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Estremo Scraftros Ok, ragazzi oggi facciamo un bel episodio che me lo avete consigliato voi Per cui ringrazio la pubblica del TeamSpeak Luke4316.gaymosting.it Veniteci a trovare tutti i giorni, tutti i giorni, sempre 24 ore su 27 in pubblica, ossia nel TeamSpeak E volevo appunto ringraziare tutti voi dopo il raduno di ieri sul TeamSpeak Mi avete dato questo consiglio Oggi andremo a prepararci per battere il Wither prima dell'Ender Dragon Devo togliere una cuffia perché sennò non mi sento la voce Se cuffie le odio, le ho messe per essere più comodo Ma le odico Allora, noi abbiamo la spada ragazzi, l'istitutibilità 3 e affilatezza 4 Ok, però ci manca questo qua, il saccheggio Il saccheggio perché dobbiamo andare a togliere la testa al Wither Wither, 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 saccheggio 2 No, non al Wither, agli scheletri, con i neri Ma con saccheggio 2 Non è al 100% la testa E quanti ne devo uccidere, uè, amico Vabbè, iniziamo ad andare Saccheggio 2 massimo? Sì Niente, mi stavo, ragazzi, stavo chiedendo, guardano un tutorial italiano Bene, allora possiamo andare Abbiamo cibo, abbiamo le anguri, abbiamo tutto Possiamo andare Ho farmato un po' di livelli, intanto, come promesso Per cui magari potremo fare altri libri a ritorno Ma intanto iniziamo ad andare nel Nether A cercare, appunto, gli scheletri neri Quelli da neri Quelli da neri Non neri Cioè, non gli scheletri africani, logicamente, ragazzi Scheletri neri, nel senso Neri Perché sono neri Perché sono neri, poi? Perché diciamo solo nel Nether Dovrebbe essere la cosa Diciamo che loro sono ossa carbonizzate Sono ossa carbonizzate Dovrebbe essere tipo questo La madonna Ragazzi, la cosa più brutta della Shader è Nether Togliamola Opzioni Shader Non Boom Fatto Tankate Ok Tantankate Andiamo Andiamo Io avevo un portale da qualche parte, però, eh Ora, il problema è che con queste cuffie Io sento bassi Passato un motorino Sento bassi i volumi E ho paura Allora, quel portale là sotto Dove Madonna Quel portale là sotto Dove mi importava? E quel portale in alto Dove mi importava? Però se non erro, ragazzi Non ho bisogno del portale io Perché se non erro sbaglio Le rovine dovrebbero essere Eccole lì, eccole lì Il problema è arrivarci Qua non ho fatto nessun tipo di barriera Ragazzi Andiamo a cercare Picchiare Le scheletri neri Togliendoli la testa Sperando di togliere la testa Me ne servono almeno tre Almeno tre, eh? No, di più Cioè, più ne trovo meglio, eh Travel for the wither Però me ne servono di più Eh, se... Magari se alcune Prima di tre Togli la testa Poi ricordiamo che abbiamo le frecce in fi Non posso sparare Non c'ho manco una freccia Dai Oh, le scheletri neri Madonna cosa ho scrivato Guarda le scheletri neri Guai Vieni qua No, no, no Ora spara Ora si incazza e spara Guardalo, guardalo L'ho incazzato Ora spara Dai Oh Mamma mia Mi chiamavo lo Lo, lo, lo Lo seminologo Oh Che cacca No, che tu droppi a terra Scendi giù Bravo Vieni qua Bravo Bravo Uh, mi ha dato Il cazzo Carbone, ossa e una spada Ma dammi la freccia almeno, no Da, raga Però adesso che culo devo avere Per droppare tre teste Ma ce n'era un altro, giusto? Senza perdermi, logicamente Scheletri nero lì Tu non sei uno scheletro Ora, logicamente Bisogna avere un culo della madonna Oltre a far droppare le teste A beccare gli scheletri neri, logicamente Ma erano due? Mi droppi la testa Vai Testa Uh, uh Mi ha preso Raga, però questi non droppano le teste Siamo sicuri che ha filatezza? Che cosa lì? Risparmio energetico Sì Questi mi sparano Ragazzi Facciamo che io cerco per tutto il nether E ogni testa Ve lo, ve lo, ve lo avviso Ho visto qualcosa di nero Ti ho visto, eh Sei solo Più che altro ho paura di perdermi Quello è la mia paura Non tanto delle scheletri Ma di perdermi Voi a tornare a casa poi, eh? Ma vai che rovine? Sono solo queste Le giri tutte Poi traverai l'uscita O no? Guardate là in fondo Quanti ce n'è? Tre Sono tre Yes, sono tre Il problema è che mi sono perso Il problema è che mi sono perso Venite qui No, quello deve scendere Se mi droppa la testa E cade giù Mincavolo Eh, ma qua c'è la lava Chiudiamo la lava Dai Oh, una alla volta Uno Ula Lì Come ho droppato? Carbone Raga, siamo sicuri Che sta merdata Ha droppato le teste? Saccheggio Perché qua, ninga, eh Vieni qua Dammi una testa Dai, dai È saccheggio In inglese Mi ricordo che era Looting No, cos'era? È saccheggio È saccheggio Sì, ma qua Mi sa saccheggiando tutto Che aumenta la probabilità Ma non è Comunque non era Il saccheggio Era il tagliatesto Dai Mi sono perso Cioè, non trovo casa Non trovo teste Non trovo nulla Ma? Io provo ad entrare qua dentro C'è un'entrata Lo so che è buio, ragazzi È buio anche a me Tranquilli Ci sarà un'entrata, no? No Perfetto E io che faccio? Poi la cosa bella Che non è che Dici spaurano ogni tanto No? Niente Devi trovarli Devi trovarli Non si può fare una farm Di scheletrini neri? Allora Qua dietro Che sono altri Voilà Allora Raga 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 Abbiamo scoperto che Non è massimo il 2 Ma deve essere il 3 Massimo del Dell'enchantment No Troppatemi la testa Non carbone Ma vengo sto Mi picchia Oh Ecco Devo fare il pirla Ma ve ne è nato Ma ve ne è nato E non mi ha troppato la testa Porca bacca Ragazzi Ok Ci c'è uno Guardate 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 L'ultima testa L'ultima testa E siamo a 2 Mi manca l'ultima testa L'ultima testa L'ultima testa L'ultima testa Vediamo se riesco a farlo vedere In diretta In diretta In diretta Dai Dove sono le teste Eccolo qua Uè Belli Che spavento Dammi la testa Dai La testa Dammi la testa Dammi la testa Mi sparano Mi sparano Via Uff Questa è vuota Ragazzi Mi manca l'ultima L'ultima testa Mi sono Madonna Leggermente persa E ricorda Tutti i nuovi fedeli Amici Cari amici Telercontatori Che sono in hardcore Sono in hardcore Buongiorno Lei mi dropperà Una testa Hai visto Abbiamo un'altra testa Il problema è Dove cazzo è casa Dove vado a casa I'm down Wade Versus Caz Case Cos Case cos Chi Tatan che te Mi sono perso Tatan che te Allora Ragioniamo Ragioniamo Questo è buggato Beccato Ebbene Fa un culo Non gioco più con te Sei antipatico Dove sparare Oh quella è casa Ma quella è la via di casa Mi stai narrando Però voglio una testa in più No Vabbè poi tornerò Tornerò Mi stai narrando Che questa è la via di casa No Questa è la via Devo mangiare Ragazzi Ce l'abbiamo fatta È stato un episodio Ho tagliato Un sacco di parti Ok Però 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 Ce l'ho fatta Porca di quella Puttata Stralway Ecco Non ci vediamo allora Ah non posso fare il Wither Senza la Sand Mi dicono Che è questa Ma ce l'ha a casa la Sand Sto'o un pirretta La cosa lì Ce li ho i materiali Per fare il Wither Io te l'ho detto Per fare il Wither Come si fa Con questa rossa Con quella marrone Con quella marrone Vabbè la prendo Ma ce l'ho a casa Allora Il Wither Dove lo facciamo Nel Nether Io devo uccidere il Wither Però non voglio Che se ne scappi E non voglio Che mi distrugga il mondo Logicamente Per chi non sapesse Ragazzi Il Wither È un boss bastardo È bastardo Perché distrugge Il mondo Ok Per cui Ragazzi Abbiamo tutta l'attrezzatura giusta Per poter creare Wither Ma non abbiamo l'attrezzatura giusta Per poterlo uccidere Devo farmi l'armatura perfetta Senza di quella Senza di quella Io non posso uccidere Il Whiskey Vi rimando Al prossimo video Mi raccomando Ragazzi Spollicciate con dei dannati Vi aspetto in live E vi ricordo Che oggi Iniziano Le iscrizioni Al torneo di Counter Strike Trovate il link In descrizione Mi ricordo Per cui GG è di Mosting GG è il torneo E oltre a quello Ragazzi Possiamo fare Il Wither Che si dovrebbe fare In questo modo Uno Due Tre Ora faccio vedere Come si fa È così 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 È così E poi sopra Tutte le teste Uno Due E la terza Col cazzo Che la metto Che la metto